E' sì, stasera qui al convento di Lonato abbiamo l'onore di avere Francesco Il Mengoni di Villa Carcina, ecco la copia bresciana del nostro cantante, eccoci qua, a chi la vuoi dedicare questo cazzone? A nessuno? A qualche ragazza? A tutte le ragazze? No, no, c'è una ragazza solo in testa e lei lo sa chi è. Si può dire o non si può dire? Si può dire o non si può dire? Ma anche se non si dice lei capisce chi è. Lei capisce? Si, si. Ok, quindi non c'è una frase segreta, niente, insomma, guarda la dritta, aspetta che ti giro la telecamera. Guarda la dritta. Mi fai ridere. Ecco, si guarda dritta la telecamera qua e ma come faccio? No, no. Dopo, alla fine. Si apronti? Vai, vai. Fammi cantare e via. Dedicato a lei, la ragazza che sa. 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 La ragazza che sa.